a ragazzi benvenuti in questo video insieme al signor blazer ciao ragazzi pirati come dite voi oggi ragazzi faremo un video che forse è uno dei più divertenti e faremo una cosa troppo spicy ci trasformeremo in ragazze trasformiamo tutti gli spicy boys e tiar in ragazze è proprio il caso di dire corpo di mille baleni è già è già in più sul suo canale invece uscirà stesso format soltanto ci trasformeremo da anziani da vecchi quindi vedremo come saremo tipo fra 10 anni io mi aggiungo due anni tir se ne leva un pochettino esatto qua ragazzi abbiamo diverse foto nostre ci siamo tutti insomma abbiamo due foto a testa così per fare un pochettino di differenza anche da chi iniziamo ma aspetta foto di gruppo come funziona con la foto di gruppo praticamente se l'app è fatta bene trasforma anche tutti in donne però io direi di cominciare da quella fotona lì di daniel questa qui sì ma perché c'ha proprio queste labbra si infatti vai esce bene sì seppure secondo me esce perfetto allora andiamo in fun divertimento e qui abbiamo noi ragazzi un sacco di scelte ma veramente un sacco di scelte quindi se caso me in futuro volete non so un video dove diventiamo tutti pelati lasciate adesso un mega mi piace se il numero di mi piace è pari tirless allora perderà un capello che almeno è pelato del tutto allora noi dobbiamo trasformarci in donne abbiamo donna 1 e donna 2 quindi ci abbiamo due trasformazioni a giorno d'oggi con il gender ci sono tante definizioni esatto andiamo a quello di scegliere va bene vai con donna 1 va allora allora ok c'è il ciuffo insomma gli ha pulito la faccia vabbè il ciuffo non lo capisco sì mi sembra più tipo un cantante anni sì tipo 80 70 80 esatto e poi c'è gli aggiunto qualche capello pulito la faccia sistemato le sovracciglia ma io dico il piercing perché è diventato un neo alla marylin morrow sì esatto cioè ti rendi conto pure il neo pure il neo ma andiamo a provare donna 2 donna 2 donna 2 eh gli ha colorato il ciuffo addirittura eh allora che voto da resto intanto levati dalle balle sì ecco cosa 5 stelle youtube 2008 però c'è l'occhio che ha un occhio che è cadente sì esatto nella normalità non è cadente no 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 poi vogliamo passare con un altro rondani o mi schiaccio un pochettino io andrei su Diego c'è lì proprio quel Diego lì me lo immagino con i capelli lunghi e ricci eh anch'io lo sai vediamo se riesce a elaborare la foto ok divertimento donna no 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 gli ha fatto le labbra ancora più carnose ma poi per togliere il pizzetto gli ha allungato il vento che cos'è la roba non lo stiamo a chiedere no 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 proviamo se donna 2 forse no è ancora peggio è tipo è Diego truccato sì Diego truccato tipo non ci siamo esatto no no non ci siamo mi dispiace ma Diego da donna niente naturalmente dovrò farci sapere sotto nei commenti chi tra di noi in versione femminile è più bombabile cavoli eh cioè è bel dilemma eh infatti infatti ma allora Fede Fede ciao Fede Fede basta che si scioglie i capelli si rade e già un po' sì esatto comunque donna 1 madonna allora ha un occhio di vetro per qualche motivo però ok va bene ok però eh cioè se non fosse per l'occhio non è così brutto diciamo che una pinda magari sì 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 mettiamo invece donna 2 no vabbè donna 2 la donna 2 l'occhio ricompare però sì perché anche l'occhio vuole la sua parte certo ma adesso soltanto così per dare un pizzichino spicy pelati prego fallo pelato allora oh yes oh ragazzi è un mezzo Marco Scroo no a me sembra tipo un imprenditore di successo della Silicon Valley vero vero sì 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 uno che ha qualche start up sì esatto esatto e poi c'è anche la versione però Hitman vabbè è cosa è Montemagno è Montemagno da giovane è un Montemagno da giovane che ci ha creduto però poco mi sa però non è pelato del tutto no no è rapato esatto è una scelta questa esatto esatto va bene ok insomma pelato un pizzichino spicy interessante ma scendiamo ancora giù allora senti c'è Freak secondo me si viene perfetto c'è proprio una posizione è perfetta sì certo perché naturalmente se la foto è fatta anche parte da notare che c'era un mezzo d'anni che spuntava che la foto avevano fatta insieme questa qua sì donna allora eh gli ha fatto tutto sto ciuffo così c'è sempre un po' di problemi non gli piacciono gli occhi a stop mi sa non so perché ma aspetta ma cos'è successo a Mario dietro? addio è vero perché gli ha aggiunto delle dita? c'ha delle dita in più oddio è un dito questo ma perché? non lo so ha photoshopato anche Mario però adesso io sono curioso di una cosa so già che altra foto fare dopo ok vediamo donna 2 però sempre con gli occhi diciamo che va bene ok allora secondo me tocca a me adesso vai tu sì va bene la foto col micio questa? sì perché se capta il muso del gatto secondo me combina qualche guaio non lo so perché può essere la va a ritagliare comunque e infatti la ritaglia allora niente sei pronto? non lo so no non lo so però va fatto vabbè ok ti ha chiuso un occhio ti ha pulito benissimo e allora io ti immagino senza il baghino qua dell'altro occhio è bombabilino insomma però c'era forse sono il più bombabile sì mi sai di sì ti ha fatto bello pulito che ansia cavoli sì sì ti ha fatto bello pulito vediamo donna 2 oddio donna 2 sembra un tank meme sì esatto lasciamo stare lasciamo stare dai beh a questo punto abbiamo fatto te già che ci siamo facciamo me sì dai quale questa o questa? secondo me la prima la prima questa la prima sì nella natura vediamo vediamo donna oh mio dio oddio allora non so che mi è successo da questo lato della faccia sì c'è un orecchio che è svenuto sì esatto però mi ha messo tipo un orecchino fammi capire tipo c'è un luccichio sì c'è un orecchino però come espressione insomma non sì però ha un taglio di capelli imbarazzante sì sì infatti c'è il ciuffo così e poi i capelli non ha senso non si capisce no infatti vediamo se donna 2 a donna 2 è con i capelli corti diciamo è più sensato è più sensato ma guarda un altro orecchino mi ha messo ma perché dai quale Tano secondo me Tano a sinistra sta morendo sì di Tiosi quindi lasciamo stare va bene prendiamo questo qui a destra sì sì dai è già messo in una posa poi è bello pulito già di suo comunque esatto cioè è già un po' femminile Tano ed è venuto mezzo baggato oddio cioè ci ha fatto le labbra però ha pulito anche la fronte un pochettino capelli mezzi lunghi beh non lo so non lo so non so però Dallari è di essere una che fa streaming cioè non lo so mi desta impressione sì è vero non so perché sai chi mi ricorda sei la streamer quella quella sindrome di Tourette di Tourette ok vediamo se donna 2 Tano da donna la sindrome di Tourette sembra uno di quelle appena uscita tipo dalla messa sì è tipo non capisco se è una santarellina sì esatto però cambia poco se ci fai caso sì cambia è più della faccia già Tano se ti radi sei femmina sei una donna sei praticamente donna sì è una ragazza diventa abbiamo però ancora altre foto abbiamo tech tech tier no esatto tech tech secondo me è questa che però gli occhiali magari fan casino non lo so proviamola proviamola non mi sembra la seconda foto però secondo me esce bene perché vedi già lo sfondo uniforme ma pure è raddrizzata se ci fai caso poi con questi occhi azzurri sì secondo me esce eh no 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 dobbiamo provare l'altra foto mi sa dobbiamo provare l'altra foto sì esatto esatto non ci siamo non ci siamo proviamo con questa qui dai vai vediamo se questa qui esce leggermente bene forse potevano essere appunto gli occhiali che davano problemi al eh magari gli occhiali per il riconoscimento eh infatti uh allora no no aspetta la cascata sono diventati i capelli esatto eh sbaglio mi è più grosso l'hai incicciottato di più è diventata tipo una svedese esatto però cicciottere sì esatto sì 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 bella pinotte eh infatti eh cioè non lo so proviamo donna 2 sono curioso infatti ormai no 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 cioè oddio allora sembra tedesco infatti sembra tedesco beh però cioè gli ha preso la cascata non la cascata vabbè le stalattite non so se è una cascatina ghiacciata non lo so sinceramente è presa come i capelli come i capelli è stranissima infatti infatti beh beh guarda abbiamo ancora TR TR altre due foto nostre e la foto di gruppo guarda secondo me c'è una foto di TR mh sarà che io l'ho già photoshopata questo se tu lo sai certo che lo so certo che lo so cosa di TS secondo me questa cioè hai già i capelli oh è bel delfin è lei è come l'ho photoshopato esatto ma ha quello sguardo maniaco ma sì ma è che sta facendo la egao bocca chiusa oh shit prima donna 2 ma lo sai che c'è ah c'ha questi capelli un po' unti sì un pochettino sì però c'è anche qualcosa di storto nella riproduzione del mento anche a parte questo beh comunque c'è tutta la barca quindi è complicato però anche Tiar secondo me potrebbe diventare donna pure secondo me quindi Tiar dentro e donna Tiar e Tano per ora sì secondo me diventate donne che secondo me fate vi conviene sì 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 per forza per forza ma adesso scendiamo ancora giù perché allora c'è questa foto di Tiar che ispira mi ispira e secondo me potrebbe c'è una cosa di aspetta va come raccontento qua era contento sai che non ci conosceva ancora sì mi sa ancora beh comunque è simile a prima sì infatti c'è ma si fa cresci c'è Sostina a mettere questa bocca infatti che è un'altra bocca proprio sì 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 però ci sa quanto pixelata vabbè no no sta morendo sì ma Tiar fra tipo due anni come sarà oh oh ah c'è col codino dietro tipo monaco tibetano però non stai male Tiar no infatti secondo me Tiar Tiar non stai male fatti pelato anche già che ci sei non cioè è fattibile è fattibile è fattibile guarda ormai io andrei direttamente con la foto di gruppo andiamo con la foto di gruppo e vediamo un pochettino che succede che già qua Tiar ha una faccia appunto a Egao anche già ok questo zoom su Tiar mi preoccupa sembra una porcona è una porcona sì ma perché solo lui c'è perché ho selezionato la sua faccia posso selezionare anche gli altri oh mio dio oddio oddio no vabbè ok gli ha fatto una bocca strana sembra un suo pesce stiamo esagerando qua sì vabbè allora gli ha peggiorato i denti però per il resto allora cioè non è uscito male no 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 ci sono due problemi un occhio che sta esplodendo sì e poi sta sbavando sì ma poi ancora ha fatto di più la fossetta a tec beh ragazzi che dire diciamo che comunque da donne comunque ragazzi detto questo in descrizione cercare naturalmente del buon Eren mi raccomando passate sul suo canale perché uscirà anche il video insieme dove ci trasformeremo da vecchi ok lasciate un mi piace un commento qua sotto e noi vi salutiamo bye bye arghe dovessi usarlo l'arghe arghe grazie a tutti grazie a tutti